Una spensierata giornata di vacanza si è trasformata in dramma. Venerdì 13 agosto un gruppo di scout di V-mercate in vacanza in Liguria ha deciso di fare il bagno. Uno di loro si è tuffato ma non è più riemerso. È accaduto a punta di chiappa tra Camoglie e Portofino. La vittima è un ragazzo di 18 anni di Lesmo in provincia di Monza e Brianza. A lanciare l'allarme sono stati proprio i suoi compagni di avventura. Appena resi si conto che il 18enne non aveva raggiunto la riva. Immediati soccorsi sul posto con l'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti con un elicottero e sommozzatori mentre la capiteneria di Porto ha avviato le ricerche via mare. A distanza di un'ora è stato trovato il corpo senza vita del ragazzo. Si sta ora cercando di capire quanto è accaduto e se il giovane possa essere stato colto da un malore improvviso. Grazie a tutti.